Buongiorno a tutti ragazzi, sono Giorgino, l'amico di Davide, sono qui perché vogliamo tagliare la culaccia fatta un anno fa, vedremo cosa è saltata fuori, ok? Attenzione, questo canale non è adatto a chi ha problemi di colesterolo, glicemia o di pressione alta. Buona visione! Bene, l'intro l'ha fatta Giorgino questa volta, quindi niente, siamo pronti per andare a vedere. Abbiamo cambiato, speriamo che andiamo bene Davide. Sì, 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 sì. Ah niente, la culaccia, questa qua l'ha stagionato lui nella sua cantina, vi metterò il link del video che abbiamo fatto quando l'abbiamo salata, l'abbiamo creata, ed è giusto che dopo un anno di stagionato ora andiamo a vedere insieme cosa ci è saltato fuori, quindi ti lascio a te un'ora. No, c'è leggermente un pochino di batticuore, come sempre, adesso proviamo a fare l'assaggio. L'annusiamo. L'annusiamo, speriamo, così se non è buono non vi facciamo sapere niente. Allora, voi sapete che la culaccia non è altro che il mezzo prosciutto, la parte diciamo del culatello, un pochettino più abbondante, buono, 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 un pochettino più abbondante, non messo in vescica ma lasciato in cotenna, no? Quindi questa qua, diciamo, è la parte migliore del prosciutto. Diciamo che l'osso ci ha dato un buon avvio. Beh, tu adesso questa qua, per togliere la muffa cosa fai? La laviamo sotto un pochino d'acqua tiepida. Ok. La sciogliamo perché non va bene, altrimenti la muffa va dentro tutto. Mentre tagli, tagli giù la muffa. Sì, e anche se la spazzoli fai un bacio. No, no, facciamo un bacio. Ok, quindi una sciacquata sotto l'avaniello. Sì, sì, sì. Hai visto, visto? È rinata. È rinata, guardate. È venuta via tutta la muffa che la proteggeva. Sì. Dunque ragazzi, una volta che l'abbiamo pulita, io mi tolgo di mezzo, la do all'operatore. Ah, vabbè, vabbè, c'è da togliere l'osso dell'anchezza. Ma si capisce, però è da fare. Si capisce. È molto, è molto facile perché basta. Comunque. Basta farci un giro attorno qua davanti e andiamo a toglier via. Basta toglierlo, diciamo noi. Ecco, guarda, abbiamo già risolto il problema. Poi te la lascio tagliare a te perché... No, no, tagliala pure che tu hai il taglio facile. C'hai quel coltellone qui con quelle due bracciali, gli dai una tracca a te. Vai tranquillo Davide. Tagliamo in due? In due. Cosa dici te? Così, bianco, ci salta fuori. Così, bravo. Oh, si poteva anche andare oltre la stagionatura. Però noi ci siamo fermati anche perché... Comunque, una culaccia di un anno ve lo garantisco io che ci vuole un posto di OGC. Perché non c'è l'osso qua, eh. Quindi... Porca se nera io, ma no. Siamo sempre, siamo sempre, siamo buoni io, ma no. Davide, guarda, che roba, oh, Davide. Tiriamo via la sugna che è andata un pochino dentro. Sì, sì, dove è stata piegata, dove c'era, perbacco, guarda, è la sua salvezza quella, vedi? Ecco. E come dicevo in qualche video precedente fa, la sugna, lasciatecela attaccata. Che è un salvo magro. Esatto. E la tirate via man mano che... E allora vi resta morbida la carne. E man mano che la tagliate, tirate via... Fate la pulizia del caso, del momento. Esatto. Quindi cotenna, un po' di sugna e siete pronti per il taglio. Quando andate a conservarlo, la sugna comunque ve lo protegge. Poi, adesso, noi l'abbiamo tagliato in due, teniamo fuori un pezzo, lo affettiamo, lo mangiamo, l'altro lo mettiamo sotto vuoto. Davide, quello che miriamo, falla vedere, ma guarda sta roba qui, eh. 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 Ma guarda che, ma guarda che, eh. E mica sempre facile fare queste robe qua, eh. Voi ragazzi. Eh. È roba fatta in casa questa, eh. Mica roba del salumificio. Beh, non che faccia schifo, eh, perché... Ma no, ma... No, non intendo a livello privato, voglio dire qualcosa. Sì, sì. No, non intendevo parlare male, per l'amor di Dio. Li compro anch'io, per cui non ci vorrei vedere. Ma dai, scherziamo. Anzi, li compri domani. Li compro da Davide, ma ci mancherebbe altro. No, per l'amor di Dio. No, no. Ho detto così, perché fare una cosa di fatto in casa... eh... E io la parlo di Dio. Oh, è dolcissimo! Oh. Ho sentito benedicca. È dolcissimo. Un uratello. Dolce, 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 dolce. Torna a tirare fuori. La fine del mondo, ragazzi. torno a tirare fuori per fare un altro brindisi così guardate c'è un po di pane così adesso ne taglio ancora aspetta bene graspa rossa amabile buona ormai è finita posso dirlo in dialetto le roba da ma questo buca miseria ragazzi che bella roba basta così perché sennò io stasera invece di cenare mi mandano in castigo a letto senza cena madonna Santino hai tagliato traspare guarda qui che roba non è coltello adatto ma bisognerebbe il prosciutto un pezzottino di crostino perché guarda davide che io ne guardo delle robe su youtube veramente sono curioso e ne vedo però senza farvi dei complimenti a te a nessun altro video come questo io devo ancora vedere ma sono rari c'è qualcuno che lo fa ma in un modo molto diverso allora io lascio i video piuttosto lunghi difatti sono molto contestato perché sono troppo lunghi i miei video però mi piace fare vedere passo per passo come si fa perché fare un video dove ti dico fai così e poi subito dopo sei tutto da un'altra parte sei tutto in padella se uno parte già che uno lo sa fare e vede il video capisce però se uno volesse imparare il momento che non si vede lo va a intuire lo devi intuire non è e non è così semplice non sono scontate certo è vero anche perché quando ti trovi no ho visto il video di come si disorso il prosciutto però poi quando ti trovi il prosciutto davanti e adesso hai capito ti viene non è così ma si capisce che la cosa dal vederla al farla c'è tanto tanta roba in mezzo però se tu hai come hai detto appena passo per passo io sono capace di prendermi il prosciutto col mio telefonino davanti col mio video fatto da davide fantinati e io prendo il mio prosciutto e il mio coltello e affondo ogni volta che non sarà uguale ma ci vado vicino più o meno poi dopo uno affina la tecnica si capisce la forza di fare si capisce che non si taglia l'albero in un colpo solo è ragazzi questa culaccia è eccezionale veramente bene quindi confermo il video che vi metterò qua il link di quando l'abbiamo fatta quindi seguite bene le istruzioni e otterrete questo risultato naturalmente è stato tenuto in una cantina dove c'è stato dove c'era un'umidità dell'85 per cento la temperatura che andava sui dai 18 ai 20 gradi quest'anno è rimasta lì fino adesso fino adesso fino adesso che siamo a settembre sì 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 fino adesso è la sua cantina piuttosto fresca sì e niente guarda vi ricordo solo che se vi va di fare i salami i salumi di cui salami ma i salumi in generale dovete addentrarvi controllate prima di avere prima di fare il salume che quello lì è il meno una volta che uno ha imparato un po' le dosi che bella cosa stai dicendo dovete avere il posto giusto dove farli stagionare perché è molto importante tre ingredienti per i salumi tre umidità no prima carne ah beh carne ok ti lascio dirte sale e posto di stagionatore che vuol dire umidità fresco e tanta aria che circola quindi le cose principali per qualsiasi tipo di carne la carne senza difetti carne è giusta per il tipo di salame e di salume scusa sale perché gli aromi mettete quello che vi piacciono voi altri ma il sale è quello che conserva è stagionatore ambiente da stagionatore il resto ve l'ha detto davide poi se vi va andate a vedere il video dello stagionatore che si fa presto a fare con due soldi vi fate uno stagionatore fatto in casa trovate un bel frigo alto un bel frigo che trovate anche usato o meno si 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 a farvi due volte anche nel rottamare dove fanno rottamare le robe si si ci sono ma va bene anche un frigo senza vetrine io ho preso un frigo con il vetro davanti per vedere va bene anche senza vetrine va bene un frigo normale che arrivi a quattro gradi che poi lo gestisci si capisce insomma poi andatevi a vedere il video dai va bene giorgio io ti ringrazio della tua visita è stato un piacere come sempre alla fine è stato in affitto da te è stato appeso come un salame che ero un po' giusto va bene allora grazie ancora a tutti per le iscrizioni per le visualizzazioni grazie ragazzi anche giorgino ringrazio perché si si no ma ci vertiamo e speriamo vi divertiate anche noi adesso quando siamo sotto inverno come dicevamo che io lo ricordo sempre perché al suo pranzo ha detto che faremo 50 salami stagionati e poi li venderemo quindi mettetevi sotto inizio esatto proviamo di speriamo di riuscire mantenere la promessa che quando sono pro che quando iniziamo a farli faremo il video oppure faremo una bella diretta mentre li facciamo esattamente così intanto voi potete commentare vedete e vedere il tutto e poi dopo magari durante la diretta prendiamo giù le prenotazioni per i salami va bene speriamo è un saluto a tutti da davide giorgino alla prossima ciao ciao ragazzi ciao